Stefano Lucchini, dopo i primi giorni di ritiro e soprattutto di lavoro sul campo di Rovetta, come sta? Che sensazioni ci sono? Le sensazioni sono sempre positive quando si ricomincia una nuova avventura. Sicuramente il lavoro si fa sentire, comincia ad essere pesante e si sente sulle gambe. È la prima settimana, poi il bello deve ancora venire, come si dice, questo tanto per ricordarti che cosa vi aspetta, battute a parte. Guarda, è la prima settimana qua ma sarebbe la seconda da quando abbiamo iniziato e ne mancano ancora due e un po', quindi è veramente dura. È il periodo, tra virgolette, un po' più brutto perché si deve lavorare tanto per cercare di mettere benzina nelle gambe per il campionato. Lavoriamo con grande impegno, con grande entusiasmo, con grande voglia, però la fatica è parecchia. Però dai, si sta lavorando per iniziare a preparare questa nuova avventura, questo nuovo campionato di Serie A. Si dice sempre all'inizio stagione che sarà un campionato difficile, bisogna stare attenti, ci sono le outsider. Poi alla fine effettivamente è così perché la qualità, la competitività tutti gli anni aumenta. Sicuramente noi partiamo da una base solida perché è stato confermato il blocco degli ultimi due anni, quindi partiamo, tra virgolette, un po' più avvantaggiati. Come dicevamo, il campionato è veramente difficile, anche senza penalizzazione perché la qualità è alta e quindi dobbiamo stare attenti perché magari ci possiamo far prendere da falsi entusiasmi dovuti a non avere la penalizzazione e magari pensiamo che la salvezza arrivi ancora più veloce. Non sarà così perché, come dicevamo, il livello è alto e dobbiamo pensare partita dopo partita, cercare di fare più punti possibili e magari partire forte come due anni fa, cercare di mettere fieno in cascina, come si dice, e arrivare il prima possibile alla salvezza perché arrivando a 40 punti il prima possibile sarebbe qualcosa di importante per noi e poi magari per fare un rush finale e per divertirci. Il desiderata? Fare un campionato come il primo di Serie A, quello di due anni fa e poi magari essere dei rulli in trasferta come l'anno scorso. Questi sono i desiderata? Sarebbe troppo bello, nel senso vorrebbe dire fare 40 punti nel girone d'andata e fare un girone di ritorno veramente pensando ad altri obiettivi. Però, come abbiamo detto dall'inizio, bisogna rimanere veramente con i piedi per terra. Poi, se durante il campionato vedremo che le cose sono diverse, allora penseremo ad altro. Poi, se durante il campionato vedremo che le cose sono diverse, allora penseremo ad altro. Poi, se durante il campionato vedremo che le cose sono diverse, allora penseremo ad altro.